Signori ben ritrovati, ben ritrovati, oggi siamo qui per un'occasione veramente importante Facciamo ovviamente un ringraziamento a TCL che ha permesso tutto ciò È una roba, non so se avete visto, è una roba mondiale, c'è Harry Kane, c'è Pogba, ci stanno un sacco di persone Controllano addirittura da New York, da UK, una roba incredibile, che cosa faremo in questa live ragazzi? Come sempre ci sarà solamente grandissimo e incredibile contenuto Avremo partite leggendarie, avremo giveaway leggendari e avremo una star del calcio leggendaria Perché oggi ragazzi avrò la possibilità di fare due chiacchiere con Gianluigi Donnarumma Io non vi dico intervista perché non sono un giornalista, facciamo una roba molto molto per ritassarci, per conoscerci E per conoscere magari qualche insight del Gianluigi Donnarumma, qualcosa che non si sa su di lui Quindi direi di non perderci in ulteriori chiacchiere Eccoci qua, buon pomeriggio Siamo online? Siamo online, siamo in live Siamo in live Buon pomeriggio, buon pomeriggio Buon pomeriggio Buon pomeriggio Posso chiamarti Gigio, dai Gigio, Gigio, tranquillamente Ok, dai, a posto A posto, come va? Tutto bene, dai Tutto a posto? Allora, io facciamo due chiacchiere, conoscerci un po' meglio Ok, io mi sono inventato qualche domanda, ti dirò abbastanza originale Abbastanza originale per sapere un po' di retroscena della vita nel calciatore Che alla fine, insomma Facili, domande facili Domande facili? Eh, non lo so, questo lo dirà solo il tempo Lo dirà solo il tempo Allora, quindi direi di partire con il Display Greatness Shoutout Allora, ti spiego velocissimamente, ti faccio delle domande proprio veloci Sparate proprio boom 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 Andremo in extra bit e tu mi rispondi come meglio credi proprio a ruota libera Ok? Vai Sei pronto? Vado, eh Allora, che cos'è che ti ha influenzato di più crescendo? Che potrebbe essere una figura, un familiare o un, che ne so, qualcosa che hai imparato Diciamo che io e un mio zio che giocava a calcio Era un portiere, quindi diciamo che mi ha influenzato lui a fare questo lavoro E sono cresciuto con il suo mito, quindi è stato lui che mi ha dato questo Mi ha dato questa voglia di fare il portiere E poi sono cresciuto con il sogno di diventare il migliore Speriamo un giorno di diventare Senti una roba, senti una roba Allora, noi che siamo difusi, mi ci metto ovviamente anch'io Viviamo le partite di calcio dall'esterno, ok? Quindi si dice sempre che la squadra di casa c'ha l'uomo in più che il pubblico Ma effettivamente così, cioè qual è il vantaggio più grande di giocare in casa? C'è effettivamente un vantaggio... Ora, questa situazione sicuramente di pandemia non aiuta Però, generalmente, in una situazione diciamo ipoteticamente normale C'è effettivamente questo vantaggio di giocare in casa? Sicuramente Sicuramente i tifosi ti danno una spinta in più Nei momenti anche di difficoltà Però bisogna anche saper sopportare delle critiche Anche quando le cose non vanno bene Magari i tifosi Vomoreggere un po' Bisogna anche saper sopportare quello Però sicuramente ti danno qualcosa in più Purtroppo ultimamente non li abbiamo al campo Però quando ci sono ti danno tanto Ti danno tanto perché Perché neanche nei momenti di difficoltà Come ho già detto prima Loro ti possono dare una mano Ti possono dare quella spinta in più Quella adrenalina che serve per spingere Per portare a casa il risultato Però purtroppo come ho detto Questo periodo non ci sono E li aspettiamo Speriamo si risolva presto Già dagli europei dovrebbe Dovrebbe smoverci qualcosa Una cosa più personale invece Il più bel ricordo che hai In campo calcistico però da bambino Cioè qualcosa che proprio ti è rimasta impressa Che magari poi ti ha anche influenzato Proprio un ricordo bello Legato al mondo del calcio che hai Se si può dire Sì Te la dico Vai Ma Ricordo più bello Sicuramente Quando ho iniziato a giocare Nel mio primo allenamento Mi ricordo che Il mio zio che purtroppo non c'è più È venuto a casa È venuto a prendere Perché poi c'era mio fratello Che andava al campo E sono andato anch'io quel giorno Tra un esercizio e l'altro di mio fratello Mi buttavo anch'io in mezzo E cominciavo a tuffarmi Da lì è partito tutto E sicuramente quello è il ricordo più bello che c'ho Senti invece una cosa Da spettatore Quindi non da calciatore Che questa te la faccio dopo Che è delicata Qual è la partita più bella Che hai guardato in vita tua Che ti è rimasta impressa? C'ho guardato? La partita più bella, sì Guarda Il mondiale del 2006 La finale Ci avrei scommesso la casa Eh beh dai E chiunque ci abbia Chiunque Chiunque dai C'ha l'età giusta Per ricordarsela Almeno Quella partita lì è stata È stata un idillio È stata incredibile È stata veramente fantastica Adesso entriamo nel vivo E qua Qua abbiamo un sacco di Di carne al fuoco Perché ogni dettaglio conta Come sa bene TCL Quindi ti faccio un po' di domande Qua Qua voglio sapere anche retroscena però Quindi sarò Sarò più specifico Allora C'hai un rituale Prima di ogni partita? Ti volevo dire Un portafortuna Un rituale Se lo vuoi dire Poi se smette di funzionare Io non mi prendo responsabilità Te lo giuro Quindi Come vuoi tu? Come vuoi tu? Ma guarda In Spogliatore c'è uno che non posso dire Ok Allora lasciamo lì In campo non so se si è mai visto Ma Prima Di iniziare la partita Tocco i due palli La traversa E mi faccio la croce Ah ok Però quello posso dire C'è un momento Nella tua vita In cui Un momento di svolta In cui ti ho detto Ok Posso diventare un calciatore professionista Cioè io per esempio Dal mio piccolo Ok Ti faccio Un esempio Io tipo Due tre anni fa No? Andavo all'università Poi un giorno ho detto Basta Non mi va E mi sono buttato sul mondo del web Quindi ho iniziato a fare quello E forse per me Quello è il giorno In cui Ho detto Ce la posso fare O è quello Almeno ho detto È quello che voglio fare Quindi ci provo Poi se va male Vado A lavorare al bar O che cacchino ne so Per te c'è stato Un momento simile Un punto di svolta Che tu ti ricordi Se te lo ricordi Quando sono partito La prima volta per Milano Ricordo che In quei mesi Ho fatto fatica Ho fatto fatica A pensare Che dovevo andare via da casa Era durissimo Poi Da quando sono partito Ho visto i miei genitori Star male Ho detto Da qui devo iniziare tutto Ce la posso fare Devo diventare Devo diventare un portiere Da serie A E se invece Fosse andata male Ok Per ipotesi Fosse andata male Che cosa Avevi un piano B Oppure hai detto Proprio vediamo Quello che viene C'è qualcosa Che ti sarebbe piaciuto fare Se non Il calciatore Magari andavo con mio padre A fare ciò Le gname Seguivo le orme di mio padre Non lo so Non avevo un piano B Però A volte Andavo ad aiutar mio padre Ma Non andavo sempre a buon fine Quindi Avevo solo un piano A Il debutto con la nazionale Penso sia Una cosa indimenticabile Che cosa hai provato Che poi alla fine Il sogno di chiunque Voglia diventare Ingalciatore Il debutto con la nazionale Non ci credevo Perché ero noto lì E c'era Gigi No Poi quando il mister Mi ha detto Il giorno prima Mi ha detto Guarda Gigi fa un tempo L'altro Faccio esordire E te Sono andato proprio Ero Ero sulla luna E poi quando sono entrato Non ti dico Però quando Diciamo che È stata sempre la mia forza Poi quando entri in campo Dimentico tutto all'esterno E Lì per lì Ho giocato la partita Però anche dopo È stata un'emozione incredibile Diciamo il primo e il dopo Però Ma fortunatamente il durante Beh Beh Penso che questo distingua anche Quando dopo Per prendere il sonno L'adrenalina Ma questo penso sia anche Una caratteristica Che distingue Diciamo Un calciatore Magari di medio livello Da un campione Cioè il campione La pressione L'emozione La deve lasciare fuori Correggimi se sbaglio Sennò Diventa tutto comandato da quello Diventa tutto Sì 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 Anche magari quando fai un errore Diciamo In partita Devi essere bravo A staccare subito Perché sennò Non esci più Poi quello penso Sennò dici Speriamo che mi arriva Una palla Un macello Penso che quello Siamo importanti pure I compagni di squadra Ah quello sì Sicuramente Sicuramente E c'è un giocatore Che per te Ha significato Tanto A livello Proprio Come diciamo Come una sorta di mentore Nella tua carriera Guarda Io c'ho avuto Nel mio primo periodo Almeno c'ho avuto Cristiano Abbiati Per me Lui è stato Importantissimo Perché Mi ha aiutato Veramente a crescere Mi ha fatto Sentire importante E mi ha fatto Star tranquillo Quando ho avuto La mia opportunità Di giocare in Serie A Era sempre Con me in tutto Quindi Lui Secondo me Per me È stato È stato fondamentale E sul campo Ti è capitato Di giocare Con qualcuno Sia nella stessa squadra Che da avversario Con cui poi Ha stretto Un rapporto Molto importante Anche fuori dal campo Allora io Sono molto amico Di Lorenzo Insigne Sono molto Amico di Lorenzo Però diciamo che Beh diciamo che Noi Molte volte da tifosi Questa cosa Non la cogliamo Non la riusciamo a cogliere Cioè magari pensiamo Che due giocatori Che giocano in due squadre Avversari Devono essere Ma guarda Il campo Solo avversari Invece In campo siamo avversari Però Esatto Dopo la partita Sicuramente siamo amici A proposito di ragazzi Che sognano il mondiale Ci sono tanti ragazzi Che ovviamente Giocano a calcio A tanti livelli Se a un giovane Ragazzetto Tu dovessi dare un consiglio Un ragazzetto Che sogna di diventare Un calciatore Professionista Se gli dovessi dare un consiglio Qualcosa che Che magari tu hai sbagliato E che Per non fargli commettere L'errore O magari qualche cosa Che hai imparato tu Cosa gli diresti? Guarda Non partire solo con la mentalità Di Devo diventare Un calciatore Professionista No Quello no Esatto Parte col divertimento Poi man mano Diventa un lavoro Il prossimo torneo importante Sono gli europei Come Come la stai vivendo? C'è un po' d'ansia? È il mio primo Torneo internazionale No E la sto vivendo Tranquillamente L'ansia c'è Però Sono tranquillo E Sono sereno Perché so che Possiamo far bene E dobbiamo far bene Perché siamo Un grande gruppo E Sono sereno Guarda Sono sereno E Non vedo l'ora Di Iniziare Quella che più ci può dar Partidio Secondo me È la La Francia Che C'è una grande Grande nazionale Sono grandi calciatori Adesso non ti so dire Chi sarà La sorpresa Spero solo che Noi arriveremo Pino alla fine Speriamo di essere La sorpresa Diciamo così Quindi la Francia Tu vorresti giocarci O vorresti Arrivare in finale Prima di giocarci Perché è una squadra Veramente forte In finale Se arrivi in finale Devi incontrare E quindi Ho la batti prima Ho la batti dopo È uguale Però Forse per lo spettacolo Sarebbe meglio dopo Ah certo Azzardo a dire Meglio in finale Se io ti dovessi dire È più importante Avere magari Qualche singolo Veramente forte Parliamo proprio Di top player mondiali O un gruppo Molto coeso E molto unito Tu mi diresti Che è più importante Il gruppo Sì Io ti ringrazio Per la disponibilità E per le Grazie a te Per le risposte Veramente Curiose Alcune E soprattutto Retroscena Che non sapevamo Io parlo Personalmente Poi magari Gli altri lo sapevano Io Ti auguro Buon pomeriggio Una buona serata Grazie mille E niente In bocca al lupo Ti sentiamo presto Grazie mille Grazie Ciao 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 Ciao